buongiorno a tutti benvenuti nel canale ipocamper oggi un piccolo tips che più che un tips è una precisazione su un video che abbiamo già fatto ve lo metto qui stiamo parlando della gate lock mf ovvero le due serrature che abbiamo installato su questo van della knaus una lateralmente e una posteriormente queste due serrature sono due serrature di sicurezza ovviamente vi ho fatto vedere tutte le funzioni abbiamo visto anche il montaggio ma non vi ho fatto vedere una funzione molto molto interessante che le rende assolutamente uniche nel loro genere allora la serratura chiaramente è come vi ho fatto vedere si apre e si chiude questo è ovvio vi faccio la chiudiamo chiudiamo la serratura come vedete anche quando io vado ad aprire la portiera con la portiera sganciata la serratura rimane chiusa questo significa che nonostante sia sicura è abbastanza fastidioso quando ci troviamo in campeggio o quando ci troviamo quando diciamo si ci troviamo all'interno dobbiamo aprire frequentemente la porta sia la laterale sia la posteriore ovviamente quindi dobbiamo ogni volta uscire fuori se ci dimentichiamo magari ci chiudiamo dietro la porta per uscire fuori dobbiamo uscire da davanti e quindi sbloccare nuovamente la serratura ok sblocchiamo la serratura così e quindi dobbiamo rifare nuovamente la procedura ma c'è un piccolo trucco ovvero se noi chiudiamo la serratura in questa maniera lei si chiude e si blocca ma se noi sganciamo la serratura così apriamo la serratura e sfiliamo la chiave in posizione sganciata la serratura praticamente non viene diciamo diventa passiva ok quindi la apro la chiudo e la posso tranquillamente sempre riaprire vedete questo ci garantisce di avere la possibilità di aprire la porta anche dall'interno in maniera molto molto semplice tra come come se nel praticamente la serratura non esistesse non dobbiamo fare nulla di particolare non dobbiamo attivare nessun tipo di levetta ma solamente all'interno della serratura c'è il meccanismo per la chiusura e per l'apertura quindi per il blocco l'attivazione e la disattivazione della serratura questo secondo me è un grande plus che potete trovare su questo prodotto per questo tips molto rapido è tutto mettete un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video